Vincenzo Accardo, i marittimi editori del Greco non solo, tornano in piazza, domenica un presidio in via Salvatornoto. Che cosa sta succedendo? Cosa succede? Che adesso in questo momento il gruppo onorato mancava solo la firma del Ministero delle Sviluppe Economiche, del Ministro Giardetti, cosiddetto capo della Lega, come Salvini, perché quello che è successo a fine oggi, che abbiamo visto sui giornali, i creditori, il bond hanno deciso tutti quanti di sì questo concordato all'80% di soldi, quasi all'85-90% di soldi anche al MIS. Cosa è successo su questa cosa del Ministero? È tutto un silenzio. Ancora oggi si devono esprimere questi signori del Ministero, il Ministro Giardetti. La cosa più vergognosa in questa cosa è che oggi non solo sono a rischio i 6.000 posti di lavoro, ma vorrebbero fare un'altra diure, Mare di Maio, tutta questa società che hanno fallito sul territorio di Torre del Greco, dove abbiamo visto milioni e milioni di infrattume, persone veramente ridotte alla fame. Questo non succederà e non deve succedere. I marittimi di Torre del Greco, Ercolano e della fascia costiera vesuviana sono seriamente preoccupati per il silenzio assordante del Ministero dello Sviluppo Economico per la risoluzione della vicenda del gruppo onorato Armatori. Una situazione che mette a rischio 6.000 posti di lavoro e che l'Associazione Marittimi per il Futuro ha denunciato con una lettera inviata anche a Mattarella e a Draghi. L'abbiamo scritto stamattina a Draghi, a Mattarella, a tutti gli ogli di Compotente, anche a Giorgetto, di farsi un esame di coscienza e vedere subito, prendersi subito il 90% di questo concordato, perché se si prende l'85-90% del concordato, vuol dire che loro prendono quasi tutti i soldi, sono 144 milioni di euro, ma se fallisce, questi qua fra 10 anni non prenderanno almeno il 10% di questi soldi, allora vuol dire che c'è qualche potere forte o culto di questo che deve fallire questa azienda. Noi l'appello lo facciamo che domenica, giorno 7, ci vediamo via Salvatore Noto per fare un presidio, per spiegarvi adesso, perché è il momento di dire basta e di parlare, perché per due anni, uno si è stato zitto, ma in questo momento queste vigliaccate che stanno succedendo, noi dobbiamo far capire a tutti quanti che non ci siamo più a queste vigliaccate e spiegarvi bene le cose come stanno andando a finire. Oggi si parla di 6.000 posti di lavoro in mezzo a una stata per far fallire un'azienda che di liquidà ci sta, vogliono dare l'85-90%, ma il ministero, che sia Giorgetti, che deve fare un esame di coscienza con la Lega, con il suo Matteo Salvini, ancora oggi stanno mettendo istruzionismo per far fallire l'azienda, perché sono amici dei poteri forti, di Grimaldi, perché questo si sa, dove sono andate da tutte le parti, sui giornali ci sono le foto insieme, Salvini, Grimaldi e tutto, vogliono far fallire un'azienda, perché fino ad oggi sono due anni che stanno portando avanti questa situazione per farlo fallire.